Quando Ardella diceva chiederemo aiuto al Comune di Napoli per la nostra battaglia per il riconoscimento unesco della battaglia della bissecca fiorentina, lei che ne pensa? Mi ha chiamato ieri per chiedermi come noi avevamo messo in campo insieme ai pizzaioli, insieme alle associazioni le azioni necessarie per raggiungere un stato storico che la pizza napoletana è diventato patrimonio dell'UNESCO e quindi universale. Quindi gli ho dato le indicazioni, gli ho fornito i nominativi di alcune persone del Comune che sono state determinanti e ovviamente ho dato tutta la disponibilità a venire a dare una mano se vogliono raggiungere quell'obiettivo, che non è facile, che raggiungere quell'obiettivo non è solo il prodotto e attenzione perché dietro alla pizza c'è tutta una filosofia, visto che oggi il professor Masullo parlava di filosofia. La non è solo la vittoria della pizza ma anche di quello che la pizza rappresenta in termini di comunità, di umanità, di intrattenimento e di stare insieme, però come dire Firenze avrà il nostro sostegno.